Visto che il tema del festival è l'intelligenza artificiale, Prima di venire ho chiesto a chat GPT cosa ne sa di noi due. Riassumo, perché sono risposte interessanti. Francesco Costa, un giornalista italiano noto per il suo lavoro presso il quotidiano online post, ha ricoperto diversi incarichi, incluso direttore, è considerato un esperto di politica cronaca nazionale e internazionale, ha scritto diversi libri e partecipa spesso a programmi tv come ospite e commentatore. A parte che non è direttore. Anche la tv sai. E la tv è abbastanza marginale, ma insomma esiste ed è importante. Armando Besio, mi dispiace, mi risponde chat GPT, ma non sono in grado di fornire informazioni su specifici giornalisti a meno che non siano noti a livello globale o abbiano una presenza online significativa. Non la sai, è dato pure la colpa a te. Esatto. E' interessante sta cosa, oltre che deprimente per me. Però ci servirà anche per ragionare su come, io non sono famoso come Francesco, però ho 25 anni di più più o meno, bene umano una vita nel giornalismo l'ho fatta, ma è interessante che non esisto proprio. Dico ancora due cose su Francesco integrando la relazione iniziale e anche appunto quel poco di 80 di chat GPT. E' catanese, ha 39 anni, laureato in scienze politiche. E' uno dei più popolari esponenti del nuovo giornalismo. New Media Phenomenon, fenomeno dei nuovi media, ha scritto di lui New Yorker in un articolo intitolato un po' enfaticamente L'uomo che spiega l'Italia, a proposito di Morning. E' nuovo non solo per motivi anagrafici, ma culturali e tecnologici. Adotta un giornalismo, pratica un giornalismo che adotta diversi formati, dal podcast al video alla newsletter. Vive in una dimensione prevalentemente digitale. La carta, che per la mia generazione era tutto, per lui è un supporto marginale, a parte i libri naturalmente. E' una star dei social. Calcolavo che ha più follower lui su Instagram, oltre 300.000, di quante siano le copie vendute quotidianamente dal Corriere della Sera. La maestra direbbe che mele e pere non si possono paragonare, però... Il fatto che seguirmi sia gratis, forse anche questo... Però come esempio funziona, per dare l'idea. Ha esordito con l'unità di diretta all'epoca da Concita De Gregorio, è diventato famoso col podcast settimanale da costa a costa, dedicato agli Stati Uniti. Stati Uniti, il suo primo amore, mai tradito, tuttora coltivato. All'America, come ci hanno detto le ragazze, ha dedicato tre libri e un quarto in preparazione. Sempre all'America, intesa come Stati Uniti. Dedica da qualche tempo un video settimanale su YouTube, in cui parla un po' di tutto, dalle elezioni imminenti presidenziali alla Coca-Cola, dal football a Walmart. Ha consolidato la sua fama con un altro podcast, appunto Morning. Si alza ogni mattina alle 5, per cui stasera non dovremo finire troppo tardi, se no domani non avremo morning. E ogni mattina alle 8 è online con questa rassegna stampa di circa 25 minuti. Una rassegna stampa al tempo stesso, didascalica e critica, com'è nello stile e nella natura del post, il giornale online fondato e diretto da Luca Sofri, di cui Francesco è vice direttore. Si occupa tra l'altro della sezione dei podcast, ha inventato insieme ad altri uno dei podcast più importanti dell'ultimo periodo, che è Indagini di Stefano Nazzi. E tra le altre cose del post che segnalo, in cui è coinvolto anche Francesco, c'è la serie di libri intitolata Cose spiegate bene, pubblicati con la casa editrice milanese Iperborea, che sono volumi monografici dedicati ad argomenti che possono essere la giustizia come le droghe. L'ultimo, che è appena uscito, intitolato Voltiamo decisamente pagina, ed è un rapporto sullo stato del giornalismo in Italia. Dicevamo che il festival è dedicato all'intelligenza artificiale e c'è, visto in Locandina, campeggia una domanda che chiede siamo pronti al post umano e c'è poi una frase di Umberto Eco, una riflessione di Umberto Eco, che mi domando quanto sia ancora attuale. Umberto Eco diceva il computer non è una macchina intelligente che aiuta persone stupide, anzi, è una macchina stupida che funziona solo nelle mani di persone intelligenti. Mi chiedo se con l'intelligenza artificiale valga ancora questo discorso o se invece sia cambiato. Prima di passare all'intelligenza artificiale, ti faccio un paio di domande laterali, ma sempre legate al tuo lavoro e alla tua persona. La prima è questa. Io sono un ascoltatore pressoché quotidiano e seriale di Morning. Ho notato che, mi pare di aver notato, che ti sei radicalizzato nell'ultimo periodo. Cioè, nei confronti del governo sei sempre stato palesemente, diciamo, progressista, ma altrettanto puntualmente moderato nei toni. E invece ultimamente hai usato espressioni come bugiardo e ridicolo rispetto al governo Meloni. Come mai? Buonasera, innanzitutto. Grazie di essere qui. Grazie mille. Grazie al Festival della Dignità Umana. Grazie ad Armando Bezo, naturalmente. Io la racconto, questa cosa, spesso anche dentro il podcast, perché quando hai la possibilità o il mestiere ti chiede di parlare per quasi mezz'ora ogni mattina, inevitabilmente si crea un rapporto con le persone. E io a volte descrivo questa cosa che faccio come una sorta di esperimento scientifico, in cui io sono la cavia e voi siete, diciamo, i testimoni, voi che ascoltate Morning eventualmente, perché cosa succede se prendiamo una persona di quasi 40 anni e ogni mattina, tutte le mattine, facciamo leggere a questa persona otto quotidiani italiani, qualsiasi cosa sia accaduta nel mondo, se questa persona ha voglia o non ha voglia, eccetera, e poi facciamoglieli commentare. Cosa succede col tempo? C'è un'esposizione evidentemente forzata dal mestiere che faccio e che mi piace tantissimo, ma non è che se una mattina non voglio leggere i giornali perché è successa una cosa che mi colpisce particolarmente, posso decidere di non farlo. C'è un'esposizione forzata a tutta una serie di informazioni, notizie che poi racconto e che carpiamo, poi chiunque di noi magari ascolta il telegiornale o percepisce o riceve dai social, però otto quotidiani con tutti gli articoli che contengono è una vera immersione, con cui io comincio tutte le giornate e come potete immaginare, questi giornali non contengono in larga parte buone notizie, ma cattive notizie. È normale che sia così, un po' perché le cattive notizie sono i problemi, le cose di cui è il caso di parlare per provare a risolverle, un po' perché, come si dice nella stampa statunitense, if it bleeds, it leads. Se c'è del sangue, se la storia è una brutta storia, sicuramente sarà in prima pagina. Le brutte storie attraggono la nostra attenzione. Ora, non so bene che cosa stia succedendo e le persone a me con questo esperimento scientifico, ci sono dei momenti, dei periodi in cui sono più in forma, altri meno, momenti in cui sono più ottimista, altri meno. Appunto, nel rapporto che ho con chi ascolta Morning c'è anche l'accettazione di questo patto reciproco, che io cerco di fare del mio meglio con onestà intellettuale e vediamo che succede, non ho mai avuto intenzione, non ho intenzione di fare un... cioè, voglio fare un prodotto che sia intellettualmente onesto, però essere intellettualmente onesti non comporta, secondo me, essere fintamente equidistanti a fronte di quello che succede. Non solo, il mestiere del giornalismo è, a fronte di qualcosa che succede, fornire anche il contesto, le informazioni necessarie ad apprendere un certo fatto. E quindi, quando è capitato ultimamente che si è parlato tantissimo di immigrazione, quando si parla di immigrazione, io non perché ce l'abbia col governo, ma perché se il mio mestiere è raccontare che cosa succede in Tunisia o cosa succede a Lampedusa, non posso non raccontare come il modo in cui parliamo in Italia di immigrazione, al di là di quello che dice il governo, si faccia riferimento a una realtà che non esiste. Che non esiste, ma è questo a prescindere da quello che pensiamo sull'immigrazione come opinione, su come vada gestita, possiamo pure pensare che vorremmo vivere in un paese formato soltanto da persone bianche, nate in Italia, pensate alla posizione più conservatrice possibile sull'immigrazione. È una posizione politica legittima. Questo non rende vero che possiamo rimpatriare decine di migliaia di migranti ogni anno, perché quella roba lì, che ti piace o no, non è vera, o che possiamo lasciare affondare le barche in mare, perché quella roba lì, il diritto internazionale, ti proibisce di farla. Tu puoi scriverla, la puoi mettere nei decreti, la puoi sostenere, ma non lo renderà vera. E quindi nel raccontare un fatto in cui è così evidente la distanza tra la realtà e le cose di cui parliamo, ogni tanto certe bugie sono così sfacciate da parte di persone che hanno incarichi importanti e che hanno anche responsabilità importanti e che sanno che stanno mentendo quando dicono la soluzione al problema dell'immigrazione è aiutare l'Africa, per carità, certo che bisogna aiutare l'Africa, ma c'era un'intervista al ministro degli esteri italiani che dice dobbiamo investire 60 miliardi di euro per l'Africa. Capisco che i numeri quando diventano molto grandi poi divertiamo un po' il significato, ma 60 miliardi sono la metà del super bonus, la metà del super bonus. Cioè noi abbiamo fatto un po' di ristrutturazioni di condomini e adesso con quella cifra noi risolleviamo l'Africa che insomma non so se avete presente quanto è grossa l'Africa. E' chiaro che è una stupidaggine e italiani che non è scemo, anzi lo sa, però davanti a un ministro che dice una cosa stupida sapendo che la sta dicendo il ruolo del giornalista qual è? È una domanda che faccio non retoricamente, però provate anche voi a darvi questa risposta perché io me la pongo ogni mattina questa domanda. Dire che il ministro ha detto questo e non aggiungere nulla o dire che il ministro ha detto questo ed è una roba che non sta né in cielo né in terra. Nel dare questo giudizio riconosco che mi sto radicalizzando in un certo senso che in questo momento il ruolo lo sto interpretando in un modo un po' più incisivo di come forse ero all'inizio però penso anche che sia una fase una fase non solo politica del nostro paese ma anche una fase mia. Vediamo come procede l'esperimento scientifico. Io spero e questo però in questo i feedback delle persone mi aiutano molto che finché non manca l'onestà intellettuale e quindi poi correggermi se sbaglio e cambiare idea che è una cosa che mi capita di fare in un modo molto trasparente il patto di fiducia che ci lega rimanga anche nel dissenso con quello che io penso cioè io parlo per mezz'ora ogni mattina ogni giorno nemmeno mia mamma è d'accordo con tutte le cose che dico ed è normale e anzi su quel dissenso che può esserci con chi mi ascolta si costruisce un pezzo forse dell'utilità se c'è di morning nel stimolare le riflessioni che poi ognuno porta dove vuole Così giovane e così famoso come fai a non montarti non so se è peggio come fai a non la prima o la seconda e l'incrocio poi è inquietante ma come fai a non montarti la testa hai degli anticorpi degli antidoti lo sport l'amore una passeggiata un cinema sei consapevole del rischio insomma del rischio che la fama comporta allora scusate Armando è molto gentile e carino così famoso non sono Chiara Ferragni cioè nel senso vado in giro per Milano e non vengo assaltato è la terza volta che ho a che fare con Francesco le due precedenti in due festival che organizzo sul lago di Como e raramente in 16 anni da una parte in 4 nell'altro posto comunque raramente e lo dico perché è vero ho avuto tanta gente e ancora più raramente ho avuto tanti giovani per cui lo so in base all'esperienza quanto lui è famoso so anche che la fama appunto può essere rischiosa no ma allora io non voglio nemmeno fare quello che non risponda alla domanda penso che un pezzo di questo pubblico esista anche se è arrivato ai miei contenuti anche perché non c'è una grandissima offerta adesso anche un po' più di prima ma non c'è una grandissima offerta giornalistica rivolta alle persone che hanno meno di 50 anni che non guardano la tv che esistono e non comprono i giornali di carta c'è un'offerta piccola io faccio parte di questa offerta lì per quanto poi le persone che ascoltano Morning sono molto trasversali per età per provenienze geografiche quindi mi sono trovato un po' al posto giusto al momento giusto l'ambizione di qualsiasi giornalista o chi scrive libri è parlare a un pubblico il più ampio possibile nel senso che le cose che noi facciamo e che raccontiamo hanno un senso e hanno un valore se hanno un impatto sulla società non facciamo letteratura la nostra non è un'arte per cui non è detto che il pubblico debba per forza apprezzarla in massa perché abbia un valore un'opera d'arte il nostro è un servizio il giornalismo è un servizio e ha senso se è utile alle persone che leggendo un giornale o ascoltando un podcast acquisiscono delle informazioni che sono utili nella loro vita nelle loro scelte e quindi in questo senso se c'è questo tipo di rapporto è perché evidentemente questo servizio ha una sua funzione che il pubblico sia ampio e cresce mi rende molto felice rispetto al discorso se lo ha fama io so che in tutto questo sto progressivamente perdendo un po' di anonimato rispetto a non sono Chiara Ferragni e non lo sarò mai sicuramente però quando mi capita che qualcuno mi ferma per strada per chiedermi una foto o per salutarmi per ringraziarmi io sono molto contento dall'altra parte penso ogni volta che esco di casa per andare a buttare alla spazzatura o a comprare una cosa al supermercato come tutti a volte esco in condizioni diciamo pietose con la tuta il pigiama con la giacca di sopra per prendere i cornetti la mattina e penso speriamo che nessuno mi veda e poi lo so che qualcuno mi fanno a volte le foto da lontano me le mandano pure anzi eri tu questo qui e hai detto Cristo però non è carino quando qualcuno ti fotografa la tua insaputa però a un certo punto anche chi se ne frega cioè finché non è una cosa invadente non è una cosa maleducata lo prendo come una cosa molto positiva di cui considerarmi fortunato ecco una conseguenza che si può gestire ho la fortuna che non lo dico solo perché siete voi qui davanti evidentemente siete la creme della creme che siete qui e non a vedere l'Inter o il Napoli o altro ho la fortuna di avere un pubblico molto educato molto consapevole sensibile cioè non mi sono mai capitate delle cose spiacevoli rispetto al discorso che facevi sulla fama io ho fatto fatica a venire da Francesco sapendo che c'era la Champions perché considero un atto di amicizia when in trouble go big è la frase che apre la locandina dell'incontro di questa sera chi l'ha pronunciata e cosa significa questa è una frase a cui sono molto legato un po' perché coincide con un periodo che è l'inizio della mia carriera in cui ho iniziato a fare questo mestiere davvero con uno stipendio con qualcuno per cui lavorare è una frase che ho scoperto poi non so se ha avuto precedenti momenti di popolarità negli Stati Uniti ma ho scoperto durante la campagna elettorale americana del 2007-2008 io siocchivo molto la storia soprattutto della candidatura di Barack Obama che all'epoca era questa storia anche piuttosto incredibile di Davide contro Golia Obama era un senatore di nessuna esperienza o quasi semi sconosciuto con un nome piuttosto bizzarro erano gli anni della guerra in Iraq erano gli anni di Al-Qaeda e questo si chiamava Hussein di secondo nome nero e non c'era mai stato un presidente nero che voleva fare il presidente senza alcuna speranza ma con un certo carisma con un certo seguito con una certa efficacia con un elettorato giovane interessante nuovo era una storia molto appassionante da seguire e seguendo questa storia a un certo punto capita una cosa alla campagna elettorale di Obama la stampa americana scopre che il reverendo della sua della chiesa in cui lui andava storicamente con la sua famiglia bregaria che aveva sposato lui e Michelle un pastore protestante molto importante si chiama Jeremiah Wright un pastore afroamericano di Chicago di una di quelle chiese afroamericane che sono non solo delle chiese ma sono stati dei presidi a lungo lo sono ancora di difesa dei diritti delle persone questo 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 sacerdote aveva detto un sacco di cose molto dure molto violente negli anni contro i bianchi che nel loro contesto hanno anche diciamo delle spiegazioni nella storia delle persecuzioni contro gli afroamericani delle discriminazioni ma messe una dopo l'altra in un montaggio di Fox News c'era questo pastore che diceva morte all'America l'11 settembre ce lo siamo meritato e questo era quello che aveva sposato il padre spirituale di uno che voleva diventare il presidente degli Stati Uniti e che era anche nero che si chiamava Hussein di secondo nome insomma per la sua campagna elettorale fu un momento molto complicato perché Obama doveva spiegare i suoi rapporti con questo pastore fino a quando era un suo punto di riferimento un suo leader anche sul piano intellettuale e Obama decide invece che fare un comunicato una nota o aspettare che la tempesta passi o cavarsela con una formula magari un po' furba che si distanziasse ma non molto decide nell'arco di tre giorni di fare vabbè facciamo di fare un discorso molto solenne va a Philadelphia scrive questo discorso in tre giorni è il discorso che qui è passato con una traduzione dall'inglese un po' infelice come il discorso sulla razza razza è una parola che in inglese viene utilizzata e ha un suo significato noi in italiano è molto diverso ma sull'etnia diremmo il discorso sulle differenze etniche negli Stati Uniti che Obama fa a Philadelphia è un discorso che poi viene stampato pubblicato anche in Italia è uscito tradotto in italiano è un discorso che trasforma quel momento di grande crisi in un momento in cui Obama mostra che può essere il capo di una nazione così complessa perché in un discorso da 40 minuti Obama riesce davvero e vi consiglio se all'epoca non c'eravate non l'avete ascoltato se avete del tempo libero di godervelo se vi interessano questi temi è un discorso a parte di quei discorsi di Obama incredibili per ritmo per solennità ma per profondità delle cose che dice nel contestualizzare le parole di quel pastore parole molto violente nella storia americana nel perché succede quella cosa lì e quindi nel dire non è che noi questo problema lo possiamo pensare di risolvere condannando le parole violente del pastore e passiamo avanti c'è un motivo e i giornali raccontando questa strategia e questa mossa che poi funzionò non era soltanto una cosa opportunistica ma per Obama fu l'occasione per parlare al paese di una cosa importante lui primo candidato vero afroamericano alla presidenza questa strategia fu sopravinata when in trouble go big quando sei nei guai quando hai un problema quando sei in difficoltà e per Obama quello fu un momento di grande difficoltà invece che cercare la scappatoia la scorciatoia cercare di vivacchiare go big fai una cosa grande ambiziosa che regga anche l'aspettativa e la sfida e la gravità del problema che stai affrontando mi sembra un modo molto interessante sano per me affascinante di affrontare le questioni della vita oltre che quelle professionali dopo questa frase nel titolo della nostra conversazione si parla di Stati Uniti tra politica e tecnologia cominciamo dalla politica siamo diciamo alla vigilia delle primarie e all'antivigilia della campagna elettorale che porterà alle presidenziali tra un anno sembra lontano ma in realtà poi è molto vicino avremo di nuovo Trump contro Biden quindi due ultraottantenni che si disputano la presidenza degli Stati Uniti o ci saranno delle novità? è sicuramente la cosa più probabile poi non è sicuro ma è sicuramente la cosa più probabile che avremo un altro Trump contro Biden si fanno le primarie negli Stati Uniti per decidere i candidati non ci sono dei partiti che decidono quindi non possiamo chiederci ma perché i democratici non mettono qualcun altro la domanda da farci è perché tra i democratici non si candida qualcun altro oppure perché tra chi sta sfidando Trump e chi si è candidato nessuno sembra poterlo battere nel caso di Biden c'è un presidente uscente che quindi diciamo in America secondo gli standard della politica locale tendono sempre a ricandidarsi il mandato del presidente è inteso spesso informalmente come un mandato che ne dura due è molto raro che un presidente non venga rieletto è capitato a Trump la volta scorsa è capitato a Bush padre ma siamo già all'inizio degli anni 90 è capitato a Carter negli anni 70 ma di solito i presidenti vengono rieletti e c'è un presidente Biden che in questi anni piaccia o no ha fatto delle cose ha fatto il presidente non è sembrato chiuso in una casa di riposo l'economia americana cresce moltissimo la disoccupazione è bassa l'inflazione è sotto controllo già adesso molto prima che ci riusciamo noi la Nato è risuscitata il rapporto con l'Europa è rinato poi uno può dissentire su tutto quello che ha fatto Biden ma ha fatto delle cose e lui dice voglio provare a chiedere di nuovo la fiducia alla popolazione è un presidente che non solo è il pianziano di sempre ma trasmette anche una grande fragilità è un presidente che mostra tutti gli anni che ha e forse anche qualcuno in più ha questa voce molto tremolante inciampa non è particolarmente diciamo vigoroso grintoso gli occhi sono due fessure poi lui è sempre stato balbuziente fin da quando era ragazzo è sempre riuscito poi a superare a mascherare oggi la balbuzia in Biden si fa sentire molto di più e questo però aggrava questa immagine Biden non proietta forza e gli americani da un presidente non vogliono soltanto delle policy condivisibili vogliono anche una figura in parte umana e in parte divina il presidente degli Stati Uniti eppure nessuno che possa eventualmente ambire a quell'incarico nel partito democratico vuole sfidarlo perché dove pensi di andare sfidi il presidente in carica è probabile che tu perda e quindi diciamo hai sfidato il presidente hai spaccato il partito hai pure perso ma mettiamo pure che vinci è una cosa molto traumatica un passaggio traumatico e perché correre questo rischio se io sono un senatore di 45 anni o una governatrice di 56 quando posso semplicemente aspettare 4 anni e dare a Biden diciamo che nel partito è molto considerato la ricandidatura che cerca quindi Biden si ricandida senza sfidanti vincere alle primarie e poi si vedrà alle presidenziali Trump sta mostrando ancora di avere una fortissima presa su un pezzo di militanti del partito repubblicano quindi un pezzo minoritario del paese ma che poi sono quelli che vanno a votare alle primarie e oggi tutti anche i suoi sfidanti non lo criticano ed è una cosa piuttosto singolare tu sfidi qualcuno alle primarie sfidi qualcuno in una qualche campagna elettorale vorrei anche dimostrare non solo che tu hai le idee migliori ma che il tuo avversario ha delle idee sbagliate e gli sfidanti di Trump sono i primi fan di Trump perché oggi non puoi fare carriera nel partito repubblicano se rinneghi quell'esperienza e quindi Trump nonostante tutti i suoi guai probabilmente vincerà alle primarie sarà anche lui candidato a novembre e quindi ci ritroveremo con un altro Trump contro Biden in un contesto completamente diverso da quello del 2020 non serve nemmeno che vi racconti perché con un Biden che secondo me parte molto favorito perché se è vero che comanda l'economia l'economia sta andando benissimo negli Stati Uniti e Trump è un presidente è un candidato logoro da ben prima di questi anni cioè ha perso le elezioni di metamandato nel 18 ha perso le presidenze nel 2020 poi c'è stato il 6 gennaio ha un sacco di problemi legali riesce di essere condannato prima delle elezioni il punto di incertezza che vi faccio assumere tutto questo non come un mio pronostico ma come una fotografia di dove siamo messi oggi è che ah si vota tra un anno come ricordavi e da qui a un anno possono succedere un sacco di cose e noi non le sappiamo come andrà l'inflazione come andrà la guerra in Ucraina dipenderà anche da questo come andranno queste elezioni e poi che in una scelta binaria come quella del presidente americano non è che scegli il tuo candidato preferito o dei sogni ne scegli uno di quei due e magari scopriamo delle cose che non sappiamo su Biden o su Trump Biden che è una persona appunto che ha questa fragilità fisica magari ha un grave problema di salute a quell'età può capitare magari durante un dibattito televisivo o durante una campagna elettorale faticosa ha un malore sul palco niente di grave ma il presidente che sviene in diretta TV immaginate cosa accade alla borsa di Wall Street cioè ci sono troppe cose troppe variabili in ballo per prevedere chi vincerà a oggi io credo che Biden parta favorito e credo che avremo probabilmente un Biden contro Trump ma le cose possono ancora succedere senza farla troppo lunga però ti faccio anche questa domanda che sembra laterale ma non posso non fartela avendo letto i tuoi libri e nel libro mi pare sia una storia americana è dedicato molte pagine a Kamala Harris la vicepresidente ed erano pagine molto incuriosite molto appassionate che mi facevano pensare che tu pensassi che lei avrebbe potuto essere una nuova Obama poi è sparita avevi capito male tu o ha sbagliato lei cos'è successo? forse un mix delle cose lei ha avuto una carriera molto promettente non è saltata fuori dal nulla ha fatto la magistrata in anni in cui le donne afroamericane magistrate erano una o due procuratrici in tutto il paese ha fatto la senatrice in un posto come la California che è un posto da 40 milioni di abitanti non è così diverso da fare il primo ministro di una nazione europea per dimensioni per stazza della California la quinta economia del mondo procuratrice peraltro con un approccio sulla lotta alla criminalità piuttosto pragmatico non ideologico improntato all'efficienza e all'efficientismo quindi con delle battaglie anche che l'hanno messa in posizioni obliquere tra la destra e la sinistra non è stata una candidata particolarmente efficace già a quelle primarie lei si candidò nel 2020 si ritirò ancora prima che si cominciasse a votare una cosa che racconto nel libro in quel libro lì è che il ruolo del vicepresidente è un ruolo un po' ingrato sapete che c'è quella tradizione per cui i presidenti quando lasciano l'incarico al nuovo presidente che arriva si lasciano una lettera al futuro presidente in un cassetto della Casa Bianca dello studio Vale a parte vorremmo tutti leggere la lettera che Trump ha lasciato a Biden ma chissà se un giorno in qualche archivio la troveremo anche i vicepresidenti lasciano una lettera al loro successore quando c'è questo cambio della guardia e le lettere dei vicepresidenti sono divertentissime perché soprattutto fino a qualche decennio fa in queste lettere c'era scritto hai tutta la mia solidarietà stringi i denti tieni duro vedrai che ce la farai cioè l'incarico del vicepresidente era la morte di una carriera politica perché il vicepresidente non ha nessuna autonomia politica fa quello che gli dice il presidente non ha poteri ha solo quelli che eventualmente gli delega il presidente non ha libertà di avere sue iniziative e questo rapporto tra Biden e Harris non è decollato Harris che ha avuto degli incarichi soprattutto in politica estera da senatrice in politica estera non aveva mai fatto granché quindi ha avuto bisogno un po' di ingranare insomma non ha funzionato fin qui poi ci sono anche altri problemi rispetto a una sua poca abitudine a rivolgersi a un elettorato non californiano è tutto un altro campionato quando sei vicepresidente rispetto a quando sei senatrice della California non ha funzionato questo peraltro rende la posizione di Biden ancora più precaria perché un presidente così anziano e quindi un presidente che può morire mentre è in carica è un presidente che può lasciare spazio alla vicepresidente e quindi votare Biden oggi vuol dire molto votare anche una eventuale presidenza Harris e oggi per lui questo è un po' un punto debole nell'ultimo tuo libro parli della California e parli della fine di un sogno e quindi sottolinei il fatto che non è più l'El Dorado che è sempre stato per l'Occidente anche per gli americani ma che da qualche anno addirittura decine se non centinaia di migliaia di persone ogni anno lasciano la California per altri stati al tempo stesso e ci avviciniamo all'intelligenza artificiale continua a essere un laboratorio di primissimo livello e l'intelligenza i principali aspetti dell'intelligenza artificiale sono nati lì in questi anni qual è la verità sulla California sulla California come specchio degli Stati Uniti la cosa secondo me interessante e anche impressionante è che sono vere entrambe le cose e che convivono la California è ancora la quinta economia del mondo peraltro la Germania sta rallentando potrebbe anche diventare la quarta a un certo punto ha più industrie colossali dalla Silicon Valley a Hollywood all'agricoltura alla finanza al turismo è ancora un posto in cui si trova lavoro con grande facilità e si va per realizzare i propri sogni e ci sono possibilità di realizzarli davvero ci sono le università alcune tra le migliori al mondo da Stanford a Berkeley fanno il vino non gliene manca manco una e tutta quella roba lì esiste non hanno un grande debito pubblico anzi hanno dei surplus di bilancio hanno i servizi pubblici migliori di gran parte degli Stati Uniti perché hanno appunto una politica anche dominata dalle forze progressiste tutto questo è ancora vero e la cosa incredibile e interessante di questa crisi è che la conseguenza di questo successo così travolgente le conseguenze di questo successo non adeguatamente gestite nel libro racconto perché hanno prodotto una situazione in cui di questo successo beneficiano tutto sommato poche persone e se una stanza in affitto a San Francisco costa 2000 dollari un monolocale ne può costare 4000 in affitto al mese le persone che stanno male non sono soltanto le persone più povere più deboli più umili ma anche la classe media fa fatica puoi avere due stipendi e lavorare bene guadagnare bene in California se hai un reddito familiare di meno di 100.000 dollari o meglio di fino a 100.000 dollari sei considerato a basso reddito 100.000 dollari l'anno hai diritto ai sussidi perché così tante persone arrivano il costo della vita che si alza tantissimo non ci sono abbastanza case per tutti quindi il prezzo delle case si alza e rimangono vere entrambe le cose il successo e la forza dell'economia californiana poi mi fa dire che resisteranno e si rimetteranno in piedi e oggi perdono popolazione la riattrarranno in questo l'intelligenza artificiale avrà un peso già lo sta avendo perché San Francisco è stata per esempio una delle città americane che si è più svuotata dopo la pandemia le persone hanno cominciato a lavorare a distanza molto più di quanto accada qui in America è rimasta questa cosa sono tantissime aziende tantissime città hanno i centri delle città le downtown semivuote New York è ancora così voi girate per Midtown per Lower Manhattan un tempo brulicante di persone che escono dagli uffici oggi molti di quegli uffici sono sfitti e sono vuoti idem San Francisco verranno in parte trasformati in case ma è una grossa crisi sul piano urbanistico a San Francisco si sta cominciando a muovere qualcosa grazie alle aziende dell'intelligenza artificiale che stanno facendo grandi affari stanno crescendo molto e hanno le loro sede lì e quindi a San Francisco si è quasi già rimesso in moto un meccanismo più sano di rioccupazione degli uffici dello spazio e quindi di riappropriazione della città di parte della città che erano quasi abbandonate in 1984 Orwell parla di macchine che generano romanzi e musica mentre Primo Levi negli anni 70 scrive un racconto di fantascienza intitolato Il Versificatore dove anche in questo caso immagina una macchina che possa produrre versi nel senso di poesie e questo per dire che il tema dell'intelligenza artificiale ha sempre attratto e non da oggi letterati narratori, poeti e ha sempre intrigato gli scienziati perché proprio oggi se ne parla così tanto? Perché la risposta semplice è perché dopo anni di investimenti e di sviluppo di tentativi di software che poi chiamiamo intelligenza artificiale e sono anni che noi parliamo con delle chat anche su Facebook e ci scopriamo diciamo a parlare con dei sistemi particolarmente stupidi ecco dopo molti anni per la prima volta abbiamo a che fare con dei sistemi che ci stupiscono per quanto invece siano efficienti efficaci e siano in grado di conversare con un essere umano aveva molto ragione Umberto Eco diciamo so che di dire una cosa che non serve che io dica che aveva ragione Umberto Eco ma nella frase che citava all'inizio sul fatto che non c'è molto di intelligente e questa è una cosa su cui peraltro il racconto che la stampa fa dell'intelligenza artificiale secondo me crea anche degli equivoci ogni tanto non sono dei sistemi intelligenti chat CPT non hanno nessuna capacità di pensiero di elaborazione ovviamente ma nemmeno di produzione creativa se si può usare questa parola di contenuti sono dei sistemi predittivi che analizzano e immagazzinano quantità gigantesche di testo ma immaginate diciamo miliardi e miliardi e miliardi di pagine di pagine di libri di testo di qualsiasi cosa e immagazzinando tutte queste informazioni tutto questo testo sono in grado a fronte di una domanda di un input da parte di un essere umano di fornire la risposta più probabile di calcolare se si parla di quell'argomento qual è la risposta che secondo tutto il testo che ho immagazzinato è la più corretta quindi sono dei sistemi davvero predittivi più che intelligenti e quindi fondamentalmente stupidi perché si basano sul quanto testo hanno immagazzinato e che cosa hanno immagazzinato e quando chat CPT immagazzinerà anche dei testi sulla tua carriera ti fornirà una risposta molto precisa e soltanto perché non è arrivato al sito dove contiene le cose che hai scritto le cose che hai fatto e ci arriverà e c'è anche anzi c'è tutta una ribellione oggi di autori di autrici di romanzi di saggi che non vogliono che i loro libri vengano presi da questi si chiamano spider in gergo da questi bot da questi sistemi software che analizzano tutto questo testo i risultati però che forniscono oggi chat CPT per esempio che è il sistema più popolare sono effettivamente sorprendenti per la rapidità con cui ci sanno dare delle risposte che hanno un senso e con cui arrivano a dei risultati delle conclusioni che richiederebbero molto più tempo agli esseri umani il tipo di attività per cui oggi sono più utili questi strumenti non sono tanto delle attività di decisione non è che le macchine prenderanno il potere il controllo forse un giorno chi lo sa nessuno lo può stabilire ma non decidono non pensano però eseguono con una capacità incredibile tu fornisci a chat GPT un file excel strapieno di dati di numeri colonne colonne di numeri e in dieci secondi ti estrapola tutti i grafici che un tempo qualcuno sarebbe stato pagato per fare con tutti quei dati in quelle colonne o chiedete a chat GPT vorrei mettermi a dieta queste sono le cose che mi piace mangiare queste sono le cose mi piace mangiare questo è il mio peso questo è il mio obiettivo e chat GPT nel giro di quattro secondi vi tira fuori la dieta la lista della spesa settimanale che dovete comprare per fare quella dieta le ricette l'agenda nelle aziende sta già venendo molto utilizzato per automatizzare dei processi meccanici che però un tempo erano prodotti da esseri umani erano conclusi da esseri umani il futuro che ci aspetta è molto meno apocalittico secondo me rispetto a come a volte viene dipinto rispetto alle macchine che prendono il predominio ma per certi versi è un po' più sinistro nel senso di software che sicuramente prenderanno il posto di molti lavori di molte professioni traduzioni perché ne è una ti avrei integro il tuo discorso perché appunto ti avrei fatto questa seconda domanda proprio su chi perdi chi trova lavoro e volevo ricordare visto che stiamo parlando degli Stati Uniti ma se ne sono avuto gli ecchi anche in Italia al Festival di Cinema di Venezia lo sciopolo degli sceneggiatori 146 giorni di sciopero degli sceneggiatori di Hollywood che si sentono minacciati di essere sostituiti dall'intelligenza artificiale quello che mi ha sorpreso leggendo poi i pezzi che davano conto dell'accordo e per cui della sospensione dello sciopero è che anche gli attori sono agitati perché hanno timore di essere sostituiti da copie digitali e poi aggiungiamo i traduttori e i giorni scorsi parlavo con una dirigente della Bonpiani una delle più grandi case di tici italiane e mi confermava che è un grosso problema questo della insomma ci serviamo dei traduttori normali e noi oppure facciamo oppure usiamo cioè in teoria si è chiaro che un traduttore umano è molto meglio però se poi tutti si usano usano il traduttore artificiale cosa si fa e qual è la garanzia che la traduzione sia corretta devi ricontrollarlo tutto allora partiamo da diciamo da una premessa generale cioè stiamo parlando di cose in grande evoluzione cioè metto molte mani avanti sul fatto che non è che adesso io arrivo qui e ve la spiego cioè nel senso non lo so proviamo a ragionare insieme ad altavoce su questa cosa e proviamo a capirci qualcosa sapendo di tutti i nostri limiti le opere di cui noi siamo circondati libri cinema musica i testi che ci passano davanti tutti i giorni non solo sui social media o sui giornali ma i testi delle etichette dei prodotti che compriamo al supermercato tutte quelle robe tutti i testi che stanno attorno a noi l'etichetta dell'estintore il logo del festival i testi i comandi dei computer sono tutti oggi scritti prodotti di esseri umani non tutti questi testi possono essere adeguatamente rimpiazzati dall'intelligenza artificiale e io non credo che ChatGPT avrà mai il livello di profondità e sofisticatezza per produrre una cosa che si possa paragonare a un romanzo di Jonathan Franzen ma non esiste a un'opera d'arte nel senso diciamo più alto del termine anche meno di Franzen però penso anche che nella musica che ascoltiamo che non è tutta Mozart e non è tutto nemmeno il grande cantautore ci sono anche tante canzoni i tormentoni dell'estate che sono delle canzoni diciamo di cui non voglio diciamo sminuire necessariamente diciamo il peso non voglio fare il trombone contro i tormentoni estivi ma insomma sono canzoni che potrebbe produrre invece sia un'intelligenza artificiale senza che ci perdiamo qualcosa in termini di qualità del prodotto senza contare le etichette dei detersivi e un sacco di testi riempitivi fondamentali le nostre esistenze ma di nessun valore artistico che certo possono essere prodotti saranno prodotti da dei software e non dai computer se fai il copywriter e lavori in pubblicità o sei veramente la miglior copywriter del paese o se no forse sì che a un certo punto il claim della macchina lo farà un sistema al posto tuo magari ne produrrà 5 ci sarà comunque un essere umano che sceglie quali dei quei 5 ma la traduzione ci saranno sicuramente dei livelli di traduzione complessi stratificati che richiedono un certo tipo di conoscenza non solo dell'autore o dell'autrice ma del periodo storico del contesto in cui gli umani non saranno rimpiazzati ma tutta una serie di altre traduzioni probabilmente sì nel senso che nel momento in cui la macchina ti fornisce un risultato qualitativamente paragonabile a quello dell'essere umano se non superiore non so i sottotitoli dei film o delle serie tv a quel punto la scelta di lavorare con l'essere umano è una scelta politica non è più una scelta di efficienza e ha perfettamente senso eventualmente fare quella scelta politica ma la storia ci insegna che se c'è una strada più economica più facile più efficiente poi alla fine le logiche del capitalismo e anche della natura umana ci portano a privilegiare quella scelta lì credo che in un sacco di contenuti di largo consumo rimpiazzabili il ruolo degli esseri umani sarà effettivamente rimpiazzato in moltissime altre cose di alto valore artistico culturale giornalistico non ci sarà modo di rimpiazzare gli esseri umani una grande attrice non sarà mai rimpiazzata dall'intelligenza artificiale ma forse una SOP televisiva la vedremo con degli attori che non esistono e alla fine non dico che cosa cambia perché è chiaro che cambia ma se quella SOP riuscirà a fornire al pubblico di quella telenovela le stesse emozioni la stessa gratificazione a quel punto non c'è motivo per cui le grandi major cinematografiche non debbano investire in quel settore lì io immagino in un futuro lontano che non ci sarà solo chat GPT ma ci saranno tanti sistemi diversi addestrati su testi diversi e quindi con inclinazioni diverse e che un giorno una casa editrice come Bondadori per dirne una molto grande con le spalle molto larghe possa avere una collana di libri young adult prodotti dal nostro sistema di intelligenza artificiale che è meglio di quello di Adelphi è meglio di quello di Einaudi e fa delle storie fantastiche potrebbero dare anche a Bondadori potrebbero dare tutti i tuoi video sugli Stati Uniti e farli fare un tuo un tuo libro apocrifo e firmarlo a Francesco guarda sto scrivendo adesso come negarlo mi tenta molto diciamo questa possibilità no ma hai visto che i video che circolano di recente sui social di clip che vengono tradotte automaticamente in un'altra lingua ve lo racconto in breve io mi faccio un video in cui dico per 30 secondi ciao sono Francesco Costa sono italiano 39 anni do in pasto quel video a un software che mi restituisce dopo qualche minuto il mio stesso video in cui ci sono io che parlo con la mia voce in un'altra lingua che io non conosco ma la voce quindi viene tradotta sintetizzata con la mia voce quindi il mio timbro e addirittura quelle tecnologie cosiddette deep fake alterano l'immagine del mio viso e della mia bocca in modo che il mio labiale segua il mio parlare in tedesco io potrei fare un video su youtube e con questo sistema farne senza alcuno sforzo dieci in dieci lingue diverse e in cui sono effettivamente io che parlo cioè non è che una voce sintetica o dei sottotitoli e non è molto distante e si può fare già adesso sta avvenendo già adesso non è molto distante dall'idea di Mondadori che prende tutti i libri non so di Calvino e gli dà un'intelligenza artificiale e gli dice fammi un nuovo romanzo di Calvino è una cosa che ci sembra blasfema ma ci siamo già oppure a storie che abbiamo visto all'inizio nelle serie tv e già stanno cominciando ad accadere di prendo tutte le mail e tutto il testo che ho di una persona a me molto cara che non c'è più che è morta mio padre mia moglie e gli do in pazzo un sistema che quindi apprende che cosa quella persona pensava scriveva come scriveva come si relazionava con me e a quel punto ho un chatbot posso parlare posso chattare con un sistema che interpreta in modo super credibile impressionantemente credibile la persona che non c'è più e per molte persone questo può essere un elemento di conforto nel disastro che può essere un lutto cambieranno anche molto le nostre relazioni a fronte di sistemi come questi e lo so che ci fa molta paura tutto questo ed è una paura legittima che non va diciamo in risa è una paura anche mia però diciamo siamo alle porte di un grande cambiamento tecnologico ce ne sono stati molti altri gli esseri umani hanno sempre trovato i modi di cavalcarli e starci sopra e non farsene schiacciare e io in questo sono abbastanza fiducioso ma ci aspetta una terra inesplorata i grandi cambiamenti vi ringrazio spero che questo possa dire che condividiamo lo stesso approccio diciamo cautamente ottimista e usciamo da qui non terrorizzati ecco non tornate a casa spaventati per colpa mia i grandi cambiamenti tecnologici necessitano di grandi capitali i grandi capitali per lo più ce li hanno le grandi aziende private e qualcuno ha sottolineato il fatto che la ricerca per esempio sull'intelligenza artificiale che prima era più o meno equamente distribuita tra grandi università che magari sono private anche esse ma diciamo hanno un allure più pubblico e le società private adesso sono appannaggio quasi esclusivo di due o tre grandi gruppi questo è un rischio rispetto poi all'utilizzo di questo potere un rischio politico è un grosso rischio ed è allo stesso tempo un rischio a cui non c'è secondo me una vera risposta possibile che piuttosto che insistere sul dovrebbero andare le cose diversamente dovrebbero essere gli stati quella roba lì non succede non è possibile faremmo meglio a prepararci invece a quello che vuol dire un'innovazione tecnologica così dirompente in mano quasi soltanto società private senza delle leggi che regolino davvero che cosa si può fare con questi sistemi un po' per i capitali richiesti un po' perché il grosso dell'innovazione tecnologica in questo caso lo stanno facendo già oggi le aziende private ora sarebbe molto bello che tutte le grandi potenze mondiali soprattutto quelle con investimenti maggiori in tecnologia potessero sedersi a un tavolo stabilire delle regole comuni su cosa si può fare e cosa no interpellando anche esperti di etica storici filosofi insomma tutta la sapienza che c'è oltre a quella strettamente tecnica ma culturale non succede non succede sarebbe molto bello ma non succede che l'America la Cina la Russia la Francia l'Italia non succede anche perché poi l'America la Cina la Russia possono anche sedersi attorno a un tavolo ma tutte queste aziende questi paesi stanno competendo tra loro anche attraverso la competizione tra le loro aziende per cui gli Stati Uniti non hanno interesse a limitare oggi quello che fa OpenAI che è la società che fa chatGPT perché OpenAI permette alle aziende americane di competere con le aziende cinesi che intanto stanno utilizzando dei loro sistemi di intelligenza artificiale allora è più utile per noi persone soprattutto e per noi come comunità prepararci a cosa vuol dire lavorare vivere in un sistema in cui il giorno che Twitter viene comprato da Elon Musk Elon Musk è in questa sua fase di crisi di mezza età che lo sta portando al neonazismo diciamo era meglio se si comprava una spider come tutti o un SUV e invece ha deciso diciamo di mettere dei meme razzisti ogni giorno su Twitter e che si fa lasciamo tutti i Twitter in massa ok però capite che la stessa cosa può accadere a Mark Zuckerberg se domani sbatte la testa e diventa anche lui un matto da legare o forse lo è già cosa si fa nel giornalismo di questo si discute molto rispetto al tema delle notizie false la produzione di fake news in senso industriale le notizie false sono sempre esistite ovviamente da che esistono gli esseri umani ma oggi grazie alla tecnologia è possibile produrre quantità enormi di notizie false farli arrivare attraverso i social dappertutto e pensate con ChatGPT che ci permette alle persone di produrre letteralmente una quantità infinita di notizie false cioè tu dai questo sistema l'incarico di produrre articoli a nastro sul papa che dicono cose una più falsa dell'altra e pubblicarle automaticamente e sono ovunque e nel giornalismo spesso sarà capitato anche a te di sentire sia dibattiti ma iniziative di il bollino che certifica che quel giornale è affidabile ci saranno sicuramente dei sistemi che ci diranno se una certa immagine un certo video un certo testo è stato prodotto da un essere umano o da un'intelligenza artificiale io non credo che questi sistemi possano davvero essere risolutivi poi in certi casi forse ci aiuteranno ma non credo che siano la risposta perché non esisterà mai un sistema una commissione un ente o un software che stabilisce che cosa è vero e cosa no in modo inequivoco chi lo fa questo software chi lo decide chi lo programma chi gli da delle istruzioni la verità è un concetto così complesso da maneggiare per cui lo fanno degli esseri umani eserciti di esseri umani che monitorano tutte le notizie false pubblicate da sistemi automatici che non si stancheranno mai e non avranno mai bisogno di ferie è impossibile allora la risposta secondo me a questa domanda arriva molto prima di occuparci dell'intelligenza artificiale o delle notizie false o dei giornali e arriva se volete nel momento della scuola per certi versi della formazione delle persone il momento in cui una notizia falsa viene pubblicata sul web e arriva sul nostro telefono quel momento è troppo tardi per intervenire rispetto al fatto che noi possiamo credere o no a quella notizia falsa il momento per cui intervenire è quello in cui abbiamo avuto o non abbiamo avuto gli strumenti culturali per discernere eventualmente il falso dal vero per farci venire un sospetto per dire forse questa cosa la verifico la cerco un attimo su google non mi fido ciecamente di questa cosa che ho letto anche se magari mi sembra dare ragione alle mie idee a quello che pensavo già e quella cosa lì si fa secondo me con la scuola innanzitutto e quindi la scuola deve molto rimettersi in corsa rispetto a aggiornare anche le cose che insegna i ragazzi e le ragazze perché questo sarà diciamo l'acqua in cui nuoteremo e i mezzi di comunicazione di massa e oggi diciamo il web sicuramente ma la tv continua ad avere secondo me un peso fondamentale cioè la tv nel senso del servizio pubblico e la scuola nel senso del servizio pubblico hanno secondo me una grande responsabilità di cui si parla molto poco oggi si parla molto più dell'ingresso del mondo del lavoro della tv rispetto alle nomine ma dove possiamo acquisire questi strumenti se non attraverso questi grandi canali nazionali di massa che a questo dovrebbero servire ad aiutare la comunità non soltanto gli esperti e gli appassionati a gestire una sfida così imponente grazie 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 a tutti